Buongiorno a tutti. Sapevate che il Green Deal dell'Unione Europea mira rendere l'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050? Per arrivare a questo difficile risultato è necessario diminuire le emissioni di tutti i gas ad effetto serra e arrivare a quello che viene definita la carbon neutrality. Ma come si possono misurare queste emissioni? Uno dei modi per misurarla e quello più conosciuto è la Product Carbon Footprint o quello che viene definita impronta di carbonio che è un indicatore utile per esprimere le emissioni totali di questi gas associati direttamente o indirettamente a un prodotto servizio o a un'organizzazione. Si esprime in tonnellate di CO2 equivalente prendendo come riferimento per tutti i gas considerati l'effetto associato al principale di essi che è l'anidride carbonica assunto pari a 1. Il calcolo dell'impronta di carbonio dei prodotti comprende sei fasi che prendono in considerazione tutti i fattori dai materiali utilizzati al luogo di produzione, dai tipi di attrezzature di produzione ai metodi di distribuzione. Grazie a queste informazioni possiamo mappare l'intera catena di fornitura, dall'approvvigionamento delle materie prime al trattamento di fine vita. Un altro fattore importante per raggiungere gli obiettivi del Green Deal è l'economia circolare che si concentra sul riciclo e sull'uso di materiali riciclati. Poiché l'industria automobilistica è un settore con emissioni molto elevate e molto intensivo in termini di risorse, svolge un ruolo centrale in questa circolare economy. Il sistema MDS ne sta già tenendo conto e lo farà ancora di più in futuro perché così dobbiamo anche imparare a misurare il materiale riciclato che abbiamo nei nostri prodotti. A partire dalla Redis 14 che è in produzione già da maggio 2023 sono stati implementati i campi sull'utilizzo e la provenienza del materiale riciclato usato nei nostri prodotti. E con la Redis 15 che sarà in produzione all'inizio del 2025, MDS prevede la possibilità di specificare il PCF, il Product Carbon Footprint. Ma che cos'è esattamente il PCF? Volete saperne di più? Saremo lieti di aiutarvi con i nostri corsi di formazione o i servizi di assistenza. Andate a dare un'occhiata al nostro sito web. Vi offriamo anche una consulenza iniziale gratuita. Grazie per l'attenzione.